GF VIP, quando finisce? Ecco la data finale e il programma delle prossime settimane. 6 mesi e 15 giorni, ecco quanto tempo è durata la settima edizione del Grande Fratello VIP. Partito lo scorso 19 settembre, 2022 nota della redazione, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Terminerà lunedì 3 aprile 2023. Al momento l'unica finalista certa è Oriana Marzoli. E letta nelle scorse puntate grazie al Televoto. Grande Fratello VIP, il programma condotto e diretto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste e Giulia Salemi per la parte social. Terminerà il prossimo 3 aprile, per poi lasciare spazio all'isola dei famosi. Solo una settimana di stopperi telespettatori, giusto in concomitanza con le festività pasquali. E poi lunedì 17 aprile tornerà Ilari Blasi e i suoi naufraghi. Muzica Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când de sus, când de sus, când de sus, când de sus pot eu susa. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns pot să mă dus tot mai sus. Mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, tot mai sus, 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 sus. Și poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-ți spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. Copilăria s-a maturizat sever.